Avevamo avuto richiesta sia dei cittadini ma anche dei ragazzi stessi che quest'estate si sono dati da fare presso l'Istituto Alberghiero e abbiamo capito che era fondamentale. Abbiamo una mozione presentata dalla maggioranza con la consigliera capogruppo Anna Maria Mattioli quindi insieme all'assessore Belloni ci siamo subito messi in atto per portare avanti questo progetto. Quindi abbiamo voluto cercare quali erano quelle location che il comune di Pesaro non stava utilizzando sapendo che era finita la concessione presso il parco Miralfiore dove c'è la zona, l'area bar e abbiamo pensato di portare un progetto diverso. Quindi ci sarà una manifestazione di interesse dove appunto ci saranno dei punti chiari e specifici che puntano al sociale, all'inclusione nel mondo del lavoro alle persone con disabilità ma con questo non è che vuol dire che creiamo una situazione solamente di persone con disabilità anzi benvenga che ci siano persone che vadano in aiuto del progetto però devo dire e ammetto che comunque il progetto di quest'estate è stato fantastico, ha avuto un grandissimo successo perché si è creata una vera comunità una comunità dove anche tutte le altre associazioni hanno partecipato e hanno voluto appunto contribuire e hanno capito l'importanza di questa cosa e ci sono stati alcuni ragazzi che mentre hanno lavorato durante l'estate poi hanno avuto lavoro anche presso alcuni hotel e di questo va fatto un plauso anche ai nostri imprenditori perché hanno capito l'importanza di dare un futuro anche alle persone con disabilità.